Certo ti vediamo in questo video cose che le donne indossano e che gli uomini amano In questo video voglio darti alcune indicazioni su delle cose che puoi indossare che gli uomini amano molto e quindi riesci a dare i giusti stimoli Prima però iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche del mio video e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco Inoltre ti ricordo che se vorrai delle risposte specifiche alle tue domande puoi abbonarti al canale e abbonandoti al canale farò delle live apposite dove solo tu che sei abbonato potrai farmi delle domande e ti risponderò in diretta Allora veniamo alle cose che le donne indossano e che gli uomini amano La prima diciamo che sono gli abiti rossi, di colore rosso Il colore rosso è il colore diciamo della passione Ogni colore ha degli ancoraggi comunque emozionali Il colore rosso normalmente nel 99% dei casi ha un ancoraggio emozionale attrattivo Cioè sono stati fatti diversi studi per cui la stessa donna vestita con colori diversi E vestita di rosso risultava molto più attraente e molto più attrattiva Quindi una donna dovrebbe sempre avere comunque un accessorio o un abito rosso Quando vuole attrarre, quando vuole fare colpo E piace molto agli uomini Ma questo piacere agli uomini è soprattutto inconsapevole Soprattutto un piacere che avviene a livello possiamo dire subliminale Cioè di sotto della soglia di coscienza Poi un'altra cosa che piace molto agli uomini Che le donne indossano ovviamente sono i tacchi I tacchi piacciono molto per diversi motivi Primo perché si lanciano la figura, si lanciano la gamba, rendono la gamba più snella Poi perché durante la camminata generano una sorta di movimento dell'anca Se viene fatto bene Perché sui tacchi bisogna saperci camminare Se una donna li mette una volta all'anno Non sa come, cioè non si rende conto che magari cammina proprio in modo scimmiesco Invece bisogna allenarsi ovviamente per non sembrare una scimmia Una scimmia che balla come ci diceva E quindi questo è importante Il tacco Se usato bene È comunque un abbigliamento che è molto attrattivo per gli uomini Poi un'altra cosa che piace molto agli uomini Sono gli abiti lunghi con degli spacchi Che generano quel ti vede, non ti vedo Che è quello che attrae Perché la vera attrazione non è fatta della minigonna inguinale Che praticamente non lascia nulla di, diciamo, di nascosto E che però fa anche vedere eventualmente se ci sono delle, come dire Smagliature, diciamo così Per cui è molto più attraente, molto più sensuale E di fatto agli uomini piace di più Un abito lungo con uno spacco che generi un ti vede, non ti vedo Un altro capo d'abbigliamento che piace molto agli uomini Sono le giacche in pelle Le giacche in pelle Una donna vestita in pelle, diciamo così O finta pelle, ovviamente Perché qua, anzi, molto meglio finta pelle Ma, ad esempio, giacche in pelle In pelle di contendo finta pelle Minigonna in pelle È un look aggressivo Che però piace ad alcuni uomini E comunque, in generale, ti fa percepire come una donna decisa Come una donna che sa quello che vuole Come una donna che non teme assolutamente Di essere o apparire, diciamo, negativa Un'altra cosa, un altro capo d'abbigliamento Che non sembra apparentemente Un capo d'abbigliamento che possa piacere Invece piace molto Sono gli occhiali Ecco, la donna con gli occhiali diventa subito più sexy Diventa subito più attraente Perché acquisisce anche Quell'aria intellettuale Che però piace Quell'aria intellettuale Che di fatto piace molto Ecco, quindi questo è qualcosa di importante Per una donna Mantenere, diciamo così Una, come dire Un'aureola di ingenuità Perché gli occhiali la rendono anche ingenua Ma contemporaneamente di sensualità Poi un altro capo d'abbigliamento Che piace molto agli uomini Sono le calze velate Meglio se autoreggenti Beh, è indubbiamente Un capo d'abbigliamento Che piace molto Soprattutto Di colore nero Poi dipende un po' Dalla stagione Comunque è sicuramente Quel capo d'abbigliamento Leggermente fetish Che però piace Piace moltissimo Ovviamente anche qua Le calze sono autoreggenti Non devono essere esibite eccessivamente Però il pizzo può essere ogni tanto Fatto intravedere Perché genera Quello spizzico di curiosità Che rende la donna Ancora più attraente Settimo capo Sono gli abitini estivi Gli abitini estivi Ovviamente vanno messi in estate Leggere e svolazzanti E un altro tipo D'abbigliamento Magari anche Leggermente Come dire Trasparenti Contro luce Sono quel tipo d'abbigliamento Che all'uomo Effettivamente piace Piace molto Un altro Capo d'abbigliamento Che non sembra Così avere questo Apparentemente Potrebbe sembrare Non avere questo Gradimento Invece Un capo d'abbigliamento Che all'uomo Piace molto Sono le camicie Le camicette Anche qua L'abbinamento Ad esempio Una camicetta bianca Con gli occhiali E magari Una gonna nera Tubino Che è un capo D'abbigliamento Molto semplice Con La calza nera Il tacco Insomma Ha un suo perché Quindi la camicetta La camicia È un capo d'abbigliamento Che dà Quell'area Sempre di Serietà Ma nello stesso tempo Di sensualità Nello stesso tempo Di malizia Ammicamento L'importante È proprio Creare Questo mix Tra La serietà La sobrietà E la sensualità È un mix Molto importante Fondamentale Poi Un altro capo Il nono Sono gli abiti Ma scollati Ma nella schiena La scollatura Davanti Il décolleté Va bene Ma non esagerato Invece Un abito Scollato Nella schiena La schiena Di una donna È comunque Una parte Molto sensuale E fa comunque Molto colpo Sugli uomini Poi Decimo Il classico Anche qua Come dicevo prima Il tubino Nero Sopra il ginocchio Stretto Molto sensuale Molto attraente Piace moltissimo Anche questo Appunto Abbinato Ha una camicetta Ha una calza Nera Sempre E al tacco Ecco Questo è un Un look Che Rende La donna Sexy Ma austera Diciamo così Quindi Quindi da un lato Attira E dall'altro Possiamo dire Che tiene A distanza È un tipico Abbigliamento Che piace molto E poi Come Come altro Capo di abbigliamento L'undicesimo È l'abito Che sembra Leggermente Una sottoveste Diciamo Molto glamour È molto È molto Sensuale E poi Per finire Non potevano mancare I jeans attillati Il jeans attillato Quindi questo Tra l'altro È un capo di abbigliamento Estremamente femminile I maschi Dovrebbero evitare Di utilizzare Jeans Eccessivamente attillati Quindi Il jeans attillato Per una donna È sempre un capo classico Che piace molto E ovviamente Anche qua Non deve avere Prosciuttoni Non deve avere Il culone Altrimenti Non va bene Il fisico Curarlo È molto importante Bene Lascia nei commenti Qua sotto Quello che ne pensi Quali sono le tue opinioni E poi Iscriviti al canale Attivando la campanella Così riceverai Le notifiche Dei nuovi video Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco E se vuoi Delle risposte precise Alle tue domande Puoi abbonarti Al canale Ciao a tutti